Buongiorno la segna stampa del primo settembre 2016 questa è Fano TV canale 17 del digitale terrestre un cordiale saluto a tutti voi cominciamo dal santo di oggi la chiesa cattolica ricorda San Josue Patriarca il sole è sorto alle 6.31 tramonterà le 19.44 minuti il tempo la giornata si preannuncia soleggiata non si escludono però lievi isolati fenomeni pomeridiani nelle zone montane le temperature sono in lieve aumento domani 2 settembre cielo sereno poco nuvoloso sabato 3 settembre ancora cielo sereno poco nuvoloso possibile aumento della copertura nei primi giorni della prossima settimana ma senza precipitazioni degne di nota apriamo adesso le pagine di Fano del Corriere Adriatico l'interquartieri lumino lambisce le case crescono le critiche e il malcontento i residenti del poderino sul piede di guerra la strada termina nel parcheggio del circolo tennis il comitato dice il comune nega ogni confronto su un'opera non solo inutile ma addirittura secondo il comitato dannosa sotto un ingegnere per rilanciare l'aeroporto assunzione a tempo dopo le dimissioni dell'unico dipendente si tratta di una delle nuove prospettive di cui si parla per rilanciare lo scalo fanese basta con la lottizzazione e la concorrenza sleale sul bastione sangallo il movimento 5 stelle sul bar assegnato extra bando a dirigenti di sinistra unita e lo chiedono i consiglieri di Fano 5 stello miccioli ruggeri e fontani in merito al rilascio della concessione per il bar all'interno del bastione sangallo il gruppo consigliare chiama in causa mascherina e ricostruisce la tesi di Marchegiani utenza idrica staccata il comune paga l'arretrato assistente sociale incontra l'invalido in difficoltà appello per le altre spese prove di sisma dopo i lavori al Torelli sotto esame intervento concluso al liceo scientifico la verifica con i sensori è stata effettuata in tutto l'edificio presto i risultati disponibili anche l'istituto battisti sarà sottoposto alla stessa analisi a san francesco invece il jazz italiano per amatrice anche Fano domenica aderisce al grande evento per la città terremotata ancora dal corriere adriatico i panthers i tifosi del Fano si dividono tra curva e solidarietà supporter granata mobilitate per il sisma il sindaco di amatrice chiama i tifosi e li ringrazia grande lavoro insieme ai colleghi dell'Aquila e della Sampdoria poi i mini regbisti imparano fare gruppo palla ovale canoa egite nel ritiro per giovani della società fanese la pagina di valle del cesano tornare indietro cioè staccare ridividere Fano come era un tempo beh errore sarebbe un errore madornale il gruppo turistico marottese stigmatizza il ricorso di Fano contro l'unificazione voluta dai cittadini dopo anni di scarica barile finalmente qualcosa con la giunta barbieri si sta realizzando per il futuro Ragnetti ricorda la lunga lotta per ottenere questo obiettivo che ora dà i primi risultati sotto la giornata del creato tra tre sono gli appuntamenti da Fossombrone dopo Fossombrone Fano domenica escursione fino alla croce del Catria si disvela il mistero della tomba segreta siamo a Piagge domani l'apertura dell'ambiente ipogeo luogo di iniziazioni con simboli precristiani guardate l'ingresso questo suggestivo ingresso appunto dell'ambiente ipogeo di Piagge viene inaugurato domani alle 18 è stato necessario un investimento di 150 mila euro in parte con un mutuo a carico del comune e per la restante invece con finanziamento regionale ancora dalle pagine dalle colonne del corriere adriatico la pagina di Senigallia campionaria in zona porto è la fine di un'epoca il comune ha deciso mai più allo stadio per piazza Garibaldi il test è superato la cronaca o meglio la prima pagina del corriere adriatico è per l'algoritmo quindi ospedale unico l'algoritmo di Ceriscioli che sceglie Fosso Signore sull'ospedale unico per Google però Google Maps l'applicazione il sito più accessibile resta quello di Fano ovvero Chiaruccia poi Nicoletta Mantovani che organizza una cena con personaggi famosi per raccogliere fondi di solidarietà per le vittime del terremoto Pavarotti and Friends in moto a modena i big della musica pro terremotati la pagina di Pesero è di cronaca con lo schianto in scooter e la morte di un 34enne lo vedete in questa fotografia Massimo Anatrelli di 34 anni che ha sconvolto la sua morte ha sconvolto la città di Pesero nella giornata di ieri in un tragico incidente sulla strada di Pontevalle Massimo Anatrelli si è scontrato con un autocarro dolore shock in città rappresentante di giorno ma era molto conosciuto come anima di un gruppo musicale che si chiama Supertele Cartoon doveva vedersi a pranzo con la fidanzata ieri sera c'è stata una veglia di preghiera nella parrocchia di Santa Veneranda e poi c'è anche la notizia che troverete sul Corriere Adriatico di un incidente in cui è rimasto vittima anche in prognosi di servata un anziano lo vedremo tra poco a Piobbico invece la tre giorni tra i brutti e il polentone da domani torna il festival più simpatico con Platinet ospite d'onore è un festival che ci sarà fino a domenica 4 settembre in piazza Sant'Antonio nel centro storico del paese dove si svolge l'evento l'inconfondibile look del presidente del club dei brutti che comunque attira è un personaggio caratteristico attira tante persone per questa gogliardata e quindi è un appuntamento sicuramente che anche quest'anno andrà alla grande. A conclusione l'elezione del nuovo presidente e quest'anno si apre anche ai bambini. Poi andiamo sul resto del Carlino, la prima pagina è questa, morte in scooter, eccola qua la foto dell'incidente, del luogo dove è avvenuta la tragedia, siamo a Pontevalle spezzata l'esistenza di Massimo Nantrelli, 34 anni, cantante della band super telecartoon. Mentre di spalla vedete nelle notizie in breve il capo della squadra mobile a caccia degli sciacalli del sisma, stiamo parlando di Silio Bozzi, lo vedete in questa immagine tra le macerie del terremoto, mentre un farmacista è stato travolto mentre attraversava la strada, stava andando all'edicola di Loreto. Allora guardiamo questa pagina con le fotografie di quest'altro incidente avvenuto ieri a Pesaro, è molto conosciuto, stiamo parlando di Giuseppe Astuti, classe 1932, noto in città appunto per essere lo storico titolare della farmacia che si trova all'inizio di corso 11 settembre, è stato investito ieri da una Volkswagen in via Colbe nel senso consentito, cioè direzione Monte Mare. Giuseppe 84 anni, si ricava in edicola e adesso si trova invece in un letto di ospedale in proniosi riservata. La pagina di Fano del resto del Carlino, in comunicabilità tra il Partito Democratico e gli alleati di governo, Nicolelli, il presidente comunale del Partito Democratico, spera in Ceriscioli, mentre Sinistra Unita su Chiaruccia dice col sindaco andremo fino alla fine. Savelli bisognerebbe invece fare scelte ponderate, dice dopo aver ascoltato anche i geologi. Poi sulla pagina di Fano troverete tutti i numeri vincenti della Lotteria della Fortuna per quanto riguarda il palio delle contrade e sull'ospedale unico l'opposizione ribadisce le critiche, la maggioranza ormai è in crisi. L'Interquartieri va accompagnata da una ridefinizione della viabilità, la CISL, l'intervento della CISL e del sindacato si può porre rimedio, dicono, ai tanti errori di questa strada per tutelare la viabilità di Trave e Poderino, sono i due quartieri. Ancora attorno ai gonfiabili di spazio e venti si aggira anche un arrabbiatissimo dinosauro, eccolo qua, quello creato da Giomaro, appuntamento per le famiglie dal 3 all'11 settembre al parco dell'aeroporto di Fano. L'idea della città tematica per il divertimento a Fano non è mai tramontata tra i fanesi, parliamo e ricordiamo certamente anche Fantasy World, insomma. Per i 5 Stelle il caffè al bastione è scorretto, nel mirino c'è l'assessore alla legalità mascarina, secondo i grillini non si sono seguite le regole per l'affidamento di questo servizio. Simulazione invece di terremoto al liceo Torelli, saremo al top dopo la fine dei lavori, il preside Samuele Giombi rassicura i genitori dei ragazzi, completata anche la bonifica dell'amianto per un importo di 1 milione e 200 mila euro. Poi invece c'è un convegno che vi segnalo, un convegno sulla sessualità nei disabili adolescenti, è un convegno che si terrà domani alle 14.30 nella Sala San Michele, grazie a Rosa Lindy, mamma di un 14enne con un grave deficit cognitivo. E poi sotto altre notizie, vi segnalo questa di cronaca, un incendio che è avvenuto all'esterno di una ferramenta sulla Statale e sulla Flaminia, lo spegne un condomino che se ne è accorto, forse questo incendio è doloso. Chiudiamo con la pagina di Pesaro giorno e notte, andiamo a Fratterosa dove Montalbano è tra le vigne di questo bel paese. Alberto Sironi, regista della celebre serie tra i vini e i cibi della nostra provincia e dice che scoperta Bianchello Aleatico della Cantina Terra Cruda e Fave della Graticola. E questa è la notizia che chiude qui la nostra rassegna stampa. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia.